Piazza Anticareggio a Bara e Pomeo, si rinnova la tradizione del branco? Come ogni anno si rinnova la tradizione del branco e giustamente per ogni vigilia portiamo sempre qualcosa da mangiare, di pesce, per rispettare le tradizioni. E poi è un ambiente giovanile, quindi con il DJ, la gente in mezzo alla strada, è sempre bello. Riva destra, porto 51, Natale, tradizione, il branco? Come sempre, anche quest'anno siamo stati fortunati perché il sole ci ha per l'ennesima volta baciati proprio questo giorno. Noi è il giorno più bello dell'anno perché insomma tornano tutti gli amici che lavorano fuori, che studiano. E quindi è un momento, ecco li vedi, è un momento dove diciamo è l'unico momento dell'anno dove ci rincontriamo tutti quanti insieme e questi vengono a spendere una cosa di soldi al mio locale perché a Tiregno non li vedo mai. Ragazzi cosa dite di questo branco? Che la nostra ricchezza è la sua forza. Hai proposto qualcosa di diverso come food quest'anno? Allora no, quest'anno abbiamo fatto un bel, una proposta molto ignorante, abbiamo fatto il panino con la mortadella, il provolone, la frittatina di pasta e poi abbiamo fatto uno scalparello. Riva destra, porto bello, oggi pranzo di Natale. Oggi pranzo di Natale siamo tutti qui per festeggiare, siamo felici, contenti. E' un bel giorno, dobbiamo essere più buoni, più contenti, più piaghi perché siamo al brunch, mangiamo tanto. C'è qualcosa che avete preparato da mangiare di particolare? Sì. O vi siete tenuti alla tradizione? Più la tradizione perché il bello del Natale al sud è proprio la tradizione, baccala fritto, fritture, montanare, un po' di tutto. Quindi vogliatevi più bene ragazzi perché il Natale è bello.